Giuseppe Giovinco e il Taranto è addio. Ha fatto rumore l'assenza dell'attaccante originario di Torino classe 90 nell'elenco dei convocati per il ritiro estivo 2022 del club Rosso Blu. Giovinco non è infatti partito con il gruppo allenato da Nello di Costanzo per gli allenamenti precampionato in calendario a Sturno nonostante fosse sotto contratto fino al 2023. Una scelta legata proprio a ruggini di natura contrattuale. Il fratello minore della formica atomica Sebastian, ex tra le altre della Juventus, avrebbe infatti atteso dal Taranto un prolungamento dell'attuale contratto oggi in scadenza nel prossimo giugno. Una specie di riconoscimento per il rendimento della scorsa stagione nel gruppo C di Serie C con nove reti e cinque assist in 35 presenze nell'annata archiviata con la salvezza dal club Rosso Blu tornato tra i professionisti a quattro stagioni dall'ultima volta. La mancata estensione dell'accordo fino al 2024 ha alimentato le distanze tra le parti fino alla mancata convocazione per il ritiro. Giovinco è rimasto così a casa in attesa di trovare un accordo per la rescissione consensuale con il Taranto e individuare magari un club che gli assicuri un contratto biennale. Un addio consumato nel silenzio mentre il club Ionico procede a una mini rivoluzione tecnica. Nell'elenco dei convocati non ci sono nemmeno il terzino Matteo Tommasini e il trequartista Mario Pacilli. Entrambi sono fuori dai piani societari e in attesa di nuova destinazione. È atteso in ritiro invece con 36 ore di ritardo Andrea Saraniti, l'attaccante palermitano classe 88, autore di 10 reti nella scorsa stagione, sembrava poter cambiare aria fino a qualche giorno fa. Un chiarimento con la società ha invece riportato serenità tra le parti e farà parte del gruppo che preparerà la stagione in campagna, anche se le sirene di mercato per lui non mancano.